Il 26 maggio a Reggio Emilia si giocherà la finale di Champions League femminile. Questo è un momento assolutamente importante per la Federazione Italiana Gioco Calcio, per l'Italia, per l'Europa e soprattutto è un momento fondamentale per il calcio femminile italiano in modo tale da poter promuovere il calcio femminile per le ragazze nelle scuole in modo tale che diventi un elemento fondamentale, educativo e sportivo per l'Italia. Vi aspettiamo allo stadio per la finale di Champions League femminile.